Molto bene, molto bene, un'Europa con monete giuste che non sono le euro, contro l'immigrazione grandestina, contro il fanatismo islamico, in difesa dei nostri prodotti, dell'agricoltura italiana e francese, dell'artigianato, del commercio e della pesca, contro le banche, la finanza contro questa Europa che è una gabbia che ci ha rotto le palle.